La crisi aguzza l'ingegno e migliora il modo di fare la spesa e l'istantanea scattata dalla Col di Retti Puglia. I dati dicono che il 56% delle famiglie ha ridotto gli sprechi, il 34% le dosi acquistate, il 27% riutilizza gli avanzi per il passo successivo e il 18% presta più attenzione alla data di scadenza dei prodotti. La spesa media dei consumi alimentari è di 410 euro al mese, la carne è la principale voce di spesa, 94 euro, gli ortaggi e la frutta si piazzano al secondo posto, 72 euro, pane 63, latte, formaggio e uova 60, oli e grassi 13 euro e 50. Non manca l'interesse per i prodotti non alimentari come ad esempio gli agri cosmetici, creme e saponi a base di olio extravergine di oliva e gli agri detersivi. L'acquisto diretto a chilometro zero è il settore più dinamico con un utile in più per i produttori del 30%. Il comparto agricolo nel 2014 ha risentito della crisi legata alla xylella fastidiosa, prezzi alle stelle e produzione col contagocce per l'olio di extravergine di oliva. Da un punto di vista dell'etichettatura i risultati che si stanno cominciando a ottenere anche se sono soltanto parziali per quanto riguarda una maggiore trasparenza per l'etichettatura saranno sicuramente un vantaggio per il consumatore e noi ci auguriamo quanto prima che questi vantaggi poi si possano anche riversare sulla valorizzazione dei prodotti delle nostre aziende agricole.